Il sindaco è costituito a comunicare se questa modalità intercontiene a bisegue. Sindaco contestato a Grosseto da parte dell'Ampi durante la festa della liberazione. Le celebrazioni del 25 aprile hanno regalato la seconda parte di quanto accaduto nella commemorazione di Maiano Lavacchio, quando nel momento del discorso del primo cittadino una parte dei convenuti girò le spalle e intonò Bella Ciao per contestare la scelta assunta dall'amministrazione comunale di voler intitolare una via Giorgio Almirante. Stessa cosa è accaduta in Piazza Dante questa mattina, quando all'inizio dell'intervento di Anton Francesco Vivarelli Colonna il gruppo dirigente della sezione Ampi, Malazzoli e il gruppo Antifa si sono girati nuovamente di spalle, intonando il canto simbolo della resistenza. Dopo che Vivarelli Colonna ha smesso di parlare, stigmatizzando l'atteggiamento antidemocratico di alcune persone, solo l'intervento del presidente della provincia Francesco Limatola e dell'Ampi provinciale che ha provveduto ad allontanarli ha permesso al sindaco di Grosseto di continuare. Ieri anche il presidente di Ampi, Luciano Calì, aveva invitato i militanti della sezione Palazzoli a desistere in quanto la loro azione sarebbe stata in palese contrasto con i regolamenti interni. Nella mattinata le celebrazioni hanno preso avvio con una messa in suffragio dei caduti al cimitero di Sterpeto ed è proseguita con la deposizione di quattro corone di alloro al monumento dei deportati, a quello dei partigiani, ai caduti, al parco della rimembranza e sulla lapide nell'androne del palazzo della provincia in memoria dei caduti partigiani. Per concludersi in Piazza Dante con gli interventi del presidente della provincia Francesco Limatola, del presidente dell'Ampi provinciale Luciano Calì e appunto del contestato sindaco Vivarelli Colonna.